il foglio bianco non dovrà far diventare nero non bianco come dicono loro ci vuol dire? ci vuol dire? ci vuol dire? tu prendi il penarello con il bianco prendi il penarello nero sul foglio normale li metti il nero invece io faccio nero e poi quello bianco quello bianco sarà pericolosissimo Angela parla in codice come sempre non si capisce niente non si capisce niente tu lo sai che io? io tu lo sai ho parlato chiaro non c'è non parlare proprio ho parlato chiaro non c'è non parlare proprio io ti dico una cosa semplicemente faccio una cosa te le faccio io qua il foglietto c'è anche il penarello uno nero prendo e te le faccio uno nero e l'altro che ho dentro quello prendo uno bianco e da quello bianco poi le strade tutte e due andranno super infinite vabbè Angela quando lo hai tradotto fammelo sapere per piacere quando hai tradotto il codice da Vinci qua anzi il codice da Lello per piacere fammelo sapere io gli ho detto prima non si spiega non ho capito niente hai fatto bene il fatto com'è il fatto com'è l'italiano no no lo devo farti capire in persona no se ascoltami ci sono dei piccoli pallini delle persone no te lo devo dire in privato non ti preoccupare che io non mi scordo mai nulla non mi dimentico niente non mi dimentico mai niente non mi dimentico mai niente vedi che ti ho messo vedi che c'è da qua anche il cameraman lo vedi il nostro amichetto e poi ti dirò vabbè ciao Angela ci sto salutando ci dobbiamo sentire mercoledì prossimo va bene mercoledì prossimo poi quando mi fa sapere le cose lui da me le fa lui e mercoledì ci organizziamo capito Angela allora vuoi il cappellino e le scappe aperte numero 36 giusto? 37 batte? che numero è 37? numero 37 allora sandali 37 i sandali 37 e poi il cappellino che le vuole e la prendiamo colorato da donna colorato a mie spese tutte le tue spese va bene eh? ah non ho chiesto di comprare questo eh ma ce la vediamo insieme eh ce la vediamo insieme ce la vediamo sempre insieme Angela perché vedi che ci abbiamo dietro? beh ragazzi eh ci salutiamo e ci vediamo mercoledì prossimo va bene? e ciao 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 ma sì ciao mi raccomando a te che te l'ho detto meglio che non te l'aspetti mi vedrai con chi mi vedrai a parte tu so io come a spettare a a